16 prime assolute, 4 nuove commissioni ISEE, nomi noti della musica contemporanea, 11 concerti, 2 produzioni, 13 allievi delle classi di composizione di 6 conservatori, 3 regioni interessate, un'orchestra sinfonica. Questi numeri della seconda edizione di Musanima, crocevia della musica e della cultura contemporanea, festival prodotto dell'istituzione sinfonica abruzzese. Nato nel 2018 in Abruzzo coinvolgerà quest'anno anche le Marche in Lazio attraverso la rete dei conservatori aderenti al progetto ed è proprio questa dimensione itinerante e collaborativa a rendere il festival unico in Italia. Nasce dalla mia, diciamo, tra virgolette politica culturale, cioè l'istituzione sinfonica abruzzese per l'Abruzzo, per cui le istituzioni di formazione per Antonomasia sono i conservatori, l'Aquila, Teramo, Pescara. Metterli in rete con la produzione per me è un messaggio fondamentale che dobbiamo dare. Per cui è nato principalmente da un'idea di dare la possibilità ai ragazzi delle classi di musica contemporanea di comporre, di scrivere, di vedere realizzato il loro prodotto da una vera orchestra. Per cui è nata da qui l'idea, è nata dall'istituzione sinfonica abruzzese e dai tre conservatori della regione. L'anno scorso la conferenza stampa si è fatta all'Aquila, quest'anno a Teramo, il prossimo anno si farà a Pescara. Musanima, che è un po' il simbolo dell'unione di due parole, musica e anima, quindi non più un senso ideologico della musica contemporanea, legata per esempio a strutture matematiche, a strutture anche ideologiche, ma è legato principalmente all'ispirazione dei compositori, anche delle diverse scuole compositive. Noi siamo molto contenti e dall'anno scorso a quest'anno abbiamo raddoppiato, prima era su tre città, soltanto adesso è sei. Quindi vi invito a partecipare, il biglietto è di un solo euro e in queste sei città noi saremo presenti e vi invitiamo a sentire queste novità musicali. Grazie.